Ciao Marco, ecco la mia domanda. Volevo chiederti cosa ne pensi della realtà aumentata e in particolar modo se pensi che avrà un lungo futuro. Grazie. Sì, assolutamente, sarà nelle nostre vite, ovvero sarà composta da un device, un dispositivo con una telecamera e una sorta di schermo in grado di mostrarci la realtà e con qualcosa sopra, ovvero avremo degli occhiali tipo questi e potremo vedere sopra gli oggetti che cosa si tratta o qualcosa di utile o di divertente o legato a una persona, ci saranno persone che magari permetteranno agli altri di vedere il proprio nome, quindi cammini per strada e vedrai la gente con il proprio nome sulla testa, sai come si chiama? Ciao Luca, ciao Marco. Questo aprirà a relazioni ancora più strane, che sono ancora più incredibili di quello che oggi è la relazione a distanza. Veramente sarà dappertutto, il problema oggi è legato ai dispositivi che ancora non sono ancora così performanti, non hanno schermi così miniaturizzabili in grado di mostrare alta risoluzione che ci possa poi far sembrare vero quello che appare sopra la realtà, perché potremo addirittura cambiare la tappezzeria se non ci piace quella che abbiamo, ma solo noi la vedremo così, potremo vedere dei soprammobili in casa nostra che solo noi potremo vedere e non gli altri, perché li vedremo attraverso i nostri occhiali e tutti quelli che avranno occhiali simili, quindi questo sicuramente farà parte delle nostre vite, da non confondere con il mondo invece degli NFT, delle cripto eccetera, che si tende a legare o del metaverso al mondo della realtà aumentata, ma che con la realtà aumentata ha ben poco a fare, saranno mondi completamente separati e avranno una vita completamente separata, perché i big del digitale continueranno a voler tenere presso casa loro tutte le transazioni, tutto quello che accade e quindi non ci sarà questa decentralizzazione che a volte ci si aspetta o ci si auspica, ecco perché attualmente io sono molto attento a unire quei due mondi, sono scettico nel pensare che domani i big lasceranno aperta la porta a tutti quelli che vorranno fare soldi con il loro device e il loro hardware che oggi invece è abilitante della base e della base di tutto, quindi sì assolutamente sarà nel futuro e nella vita di tutti, si tratterà di capire quando riusciranno ad arrivare device davvero funzionanti, davvero usabili e appunto quando i big riusciranno a produrli a prezzi accessibili a tutti.